In via Ferrari a Marotta nel comune di Mondolfo è stata riaperta l'ex sala della circoscrizione dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione avviati dall'amministrazione comunale a seguito della sentenza del Tarmarche che ha sancito definitivamente il passaggio della proprietà dal comune di Fano a quello di Mondolfo. Abbiamo riqualificato nei mesi scorsi queste sale e adesso le riconsegniamo ufficialmente a tutti i cittadini del quartiere di Marotta Nord ma anche a tutto il territorio. Queste erano delle sale, soprattutto questa, una sala molto importante molto utilizzata in passato, finalmente la proprietà è passata al comune di Mondolfo abbiamo proceduto ad una riqualificazione e ora quindi la riconsegniamo ufficialmente e torna disponibile a cittadini e associazioni. Siamo davvero soddisfatti perché dopo l'ex scuola di via Damiano Chiesa che oggi ospita un servizio di asilo nido, ora riconsegniamo alla comunità questo immobile che è altrettanto importante per tutta la cittadinanza. La struttura, già fruibile per associazioni e anche singoli cittadini, si presta per qualsiasi attività dalle mostre ai convegni fino agli incontri pubblici e così via. Il tutto contattando l'ufficio segreteria del comune di Mondolfo. I lavori li abbiamo realizzati attraverso le risorse derivanti dalla riduzione dell'indenità di sindaco e assessori a favore di progetti per la città. Come amministrazione comunale ci tenevamo a riqualificare questo immobile era un segnale importante e quindi nei mesi scorsi assieme all'ufficio manutentivo del comune di Mondolfo e a queste risorse abbiamo fatto diversi interventi in particolar modo per quanto riguarda la tinteggiatura, gli impianti di condizionamento, l'impianto elettrico, i servizi igienici, la riqualificazione dell'ascensore e quindi tutto quello che era necessario per ripristinare questa sala e darla in utilizzo alle associazioni e ai cittadini.